Dal momento che negli ultimi tempi molti iscritti mi hanno chiesto di realizzare più spesso video di versioni guidate dal latino all'italiano, quest'oggi vi accontento e vi propongo la lettura, la traduzione, un breve commento grammaticale proprio di un brano di latino. Brano che racconta un brano piuttosto famoso della mitologia classica, cioè il racconto del cosiddetto pomo della discordia o, se preferite, il giudizio di Paride. Iniziamo immediatamente la lettura, visto che il video sarà, per forza di cose, piuttosto lungo. Cominciamo dal primo periodo, che dice così All'interno di questo primo periodo notiamo immediatamente una subordinata importante, frequente in latino, che è l'infinitiva. La possiamo tradurre in questo modo. Si racconta che Giove non avesse invitato alle nozze di Peleo e di Tetide, la dea discordia. Tutto nasce da qui. Questa dea cattiva, questo personaggio negativo, la discordia, non viene ovviamente invitata ad un banchetto nuziale, perché potrebbe rovinare tutto. Giove decide che sia questa la cosa da fare. Vediamo la seconda frase. Anche qui, frase principale, e poi subordinata di primo grado infinitiva. Inuriam tolleratam non esse. La traduciamo. Risulta evidente, o se preferite si sa, che dalla dea, cioè dalla discordia, un'offesa così pesante non fu tollerata, non fu sopportata. Come prevedibile, la dea discordia si offende per l'offesa subita dal re degli dei, da Giove, e quindi prepara la propria vendetta. Vediamo quale. Qui, attenzione, un periodo molto lungo, forse il più lungo dell'intero brano. Lo leggiamo. Qui bisogna procedere con molta calma, un passo alla volta. Quare. Quare. Perciò, dunque. Poi abbiamo questa espressione. Nulla mora interposita. Come vedete, tutta scritta in ablativo. Abbiamo un ablativo assoluto. Letteralmente significa senza aver frapposto alcun indugio. Potremmo quasi tradurlo senza il minimo indugio. Un'altra subordinata introdotta da ut questa volta. Ut perturbaret convivarum letitiam. Per disturbare, rovinare, la gioia, l'allegria dei convitati, quindi subordinata finale con ut e congiuntivo, clam innupziarum mensa pomum aureum illa collocavit. Illa, lei, ella, la dea discordia, che cosa fece? collocò, pose, innupziarum mensa, sulla tavola delle nozze, sul banchetto nuziale, che cosa? Complemento oggetto. Un pomum aureum. Un frutto d'oro. Un frutto fatto d'oro. E poi la subordinata relativa. Inquo ec verba scripserat. Sul quale ec verba scripserat. Aveva scritto, aveva inciso, potremmo dire ec verba. Queste parole, due punti, tra virgolette, dearum pulcherrime. Pulcherrime è un superlativo in caso dativo singolare. E che cosa vuol dire? Alla più bella, dearum, tra le dee, abbiamo un superlativo relativo. Come a dire, questo frutto è destinato alla più bella, tra le dee presenti in sala. Statim acerrima contenzio inter iunonem minervam et venerem exarsit. Quarum una queque ad firmabat se esse omnium pulcherrimam. Sorge una contenzio, dice il testo, cioè un litigio, una contesa tra le dee presenti al banchetto. Statim, subito, all'istante, acerrima contenzio exarsit. Avvampò, iniziò, scoppiò, se preferite, una contesa molto aspra, molto accesa, acerrima, tra giunone, minerva e venere. E poi frase relativa. Ognuna delle quali, una queque quarum, ad firmabat, sosteneva, affermava, e poi abbiamo di nuovo un'infinitiva. Se esse, di essere pulcherrimam omnium, la più bella di tutte. E qui, di nuovo, come prima, il superlativo relativo. A questo punto Giove deve intervenire, perché è scoppiata una contesa, un litigio. At Jupiter iratis de abus dixit. Ma Giove disse alle dee adirate, arrabbiate, e poi il discorso diretto. Ad monte midam properate, idique, paridem, priamifidium adolescentem, interrogate. Aveo pulcherrimavestrum, iudicabitur. Ecco la soluzione proposta dal re degli dèi, da Giove. Innanzitutto un imperativo. Recatevi al Monte Ida, e lì, cioè nei pressi del Monte Ida, interrogate paridem, priami, figlium adolescentem. Interpellate, paride, giovane, figlio di Priamo. Aveo pulcherrimavestrum, iudicabitur. Letteralmente, lasciando la frase passiva, da lui verrà giudicata, potremmo quasi dire da lui verrà indicata, la più bella tra di voi. Pulcherrimavestrum. Ed ecco il famoso giudizio di Paride. Paride, il ragazzo più bello della terra, dovrà indicare quale sia la più bella tra le dèi dell'Olimpo. Vediamo il suo giudizio. Cum tres dee, ad Montem pervenissent, tradunt paridem, anc claram sententiam pronunzia visse. Vediamo innanzitutto questa prima parte del periodo. Qui un'altra struttura importante frequente in latino, il cosiddetto cum narrativo, o, se preferite, cum più congiuntivo. Cum pervenissent, tres dee, ad Montem. Qui abbiamo un congiuntivo più che perfetto, quindi esprime una anteriorità, qualcosa che è capitato prima. Essendo giunte al monte, cioè al monte Ida, le tre dee, le tre divinità che abbiamo visto prima, tradunt si racconta che, e qui un'altra infinitiva, paridem pronunzia visse. Si racconta che Paride affermò anc claram sententiam, o meglio, pronunciò questa famosa, verrebbe da lasciare sentenza anche in italiano, o più semplicemente questa celebre frase. Due punti virgolette, eccola. venerem pulcherrimam dearum omnium esse puto. Aureum pomum igitur veneri tribuatur. Ed ecco le parole di Paride. Puto, penso, credo, ritengo, di nuovo un'infinitiva, venerem esse. Ritengo che venere sia pulcherrimam dearum omnium, la più bella di tutte le dee. Ecco il giudizio di Paride. E infine la conclusione. Sono ancora sue parole. Aureum pomum igitur veneri tribuatur. Osservate il verbo tribuatur. È un congiuntivo presente, passivo, terza persona singolare. Osservate il segno di punteggiatura. C'è un punto esclamativo. È un congiuntivo esortativo. Esprime un comando, un ordine. Letteralmente, igitur, quindi, dunque, si assegni a venere, veneri, pomum aureum, il frutto d'oro, cioè il premio di questa sorta di gara di bellezza, fra le tre idee più belle dell'Olimpo. Abbiamo letto, tradotto e fatto alcune osservazioni su questa versione di latino, che, come avete visto, presenta alcune particolarità e alcune strutture grammaticali interessanti. Abbiamo notato un bel numero di subordinate infinitive, per lo più oggettive. Abbiamo notato la presenza di alcune subordinate relative. Abbiamo incontrato anche una subordinata finale. E, da ultimo, anche un cum narrativo, o, se preferite, cumpio congiuntivo. Dunque, una versione non difficilissima, ma neanche particolarmente semplice, che può rappresentare un buon allenamento nella traduzione dal latino all'italiano. Spero che questo video sia risultato utile a molti di voi. Se è stato così, lasciate un like prima di andare via e, se volete e se non l'avete ancora fatto, basta un click, iscrivetevi al mio canale YouTube. Come sempre, attendo commenti e suggerimenti per i prossimi video e ci vediamo alla prossima. A presto!